In collaborazione con Buonasera amici e amiche che ci seguite da casa e bentrovati alla riflessione, il forma di informazione politica, sociale, culturale ed economica. E' con noi il nostro esperto della società civile e ridiatore del programma, l'avvocato Michele Cutolo. Buonasera a tutti i telespettatori e telespettatrici. Questa sera una puntata dedicata ai comuni della provincia della città di Napoli, della quale parleremo con il sindaco della città di Sant'Antimo, Massimo Buonanno. Buonasera e benvenuto, avvocato. Buonasera a lei, Simone, buonasera a tutti i telespettatori della A e grazie per l'invito. Sindaco, inizierei subito col tema portante di questo periodo, ovvero l'arrivo per i comuni delle grandi città metropolitane italiane dei fondi del PNRR. Ecco, lei come ha intenzione di gestirli? Allora, è stato un tema portante anche della mia campagna elettorale. Perché, per chi non lo sapesse, il comune di Sant'Antimo è un comune che ha dichiarato il dissesto finanziario sotto legge della Commissione straordinaria pochi mesi prima del mio insediamento. Quindi, le casse comunali langono, sono al verde e l'unica speranza che abbiamo come Paese di riqualificarci, di rigenerarci, è proprio questa del PNRR. Però, prima di entrare nel merito di come utilizzeremo i fondi, io vorrei fare un appunto su questi fondi. E l'appunto lo faccio a chi li gestisce, a chi li gestisce dall'alto, dal Ministero, dall'Europa. Io penso che si debba dare voce agli amministratori locali e ai sindaci perché siamo noi che ci scontriamo con il territorio e sappiamo quelle che sono le reali esigenze. Allora, dovremmo dettare noi la linea e dire ci servono fondi per le scuole, fondi per le strade e non fondi a pioggia così che vengono lanciati magari in settori che nemmeno, diciamo, servono ai nostri territori. Quindi, gradirei da parte del Governo che ci fosse una maggiore interlocuzione con quelli che sono gli enti locali proprio al fine di ottimizzare questi fondi che sono sicuramente l'infa vitale ma che potrebbero essere destinati meglio prima che utilizzati meglio. Il Governo Draghi su questo, Sindaco, ha fatto una cabina di regia per la distribuzione o meglio per l'efficientamento di questi fondi. L'Anci che vi rappresenta a livello regionale e anche nazionale non ha espresso le riserve di cui lei diceva sotto questo aspetto o invece c'è stato un difetto di comunicazione tra le varie anime dell'Anci, se così possiamo dire. L'Anci, io ne faccio parte da sette mesi appunto, so che ha mosso gravi critiche e gravi contestazioni su questo e quindi ci auspichiamo una cabina di regia più fattiva e più concreta. Poi se devo dire come li utilizzeremo rispondendo alla domanda che mi era stata posta è chiaro che tutti i comuni, alla luce dei tagli lineari che sono stati fatti in questi ultimi vent'anni hanno problemi, oltre che di carattere economico come nel caso di specie per il Comune di Sant'Antimo ma ci sono anche dei problemi e delle carenze di organico perché sono fondi che per essere attirati ma per poi metterli in alto hanno bisogno di una progettazione quindi sappiamo che gli uffici tecnici dei nostri comuni sono per lo più sguarniti. Per fortuna e grazie al lavoro di tutta la mia amministrazione in questi primi sette mesi tramite l'Agenzia per la coesione territoriale siamo riusciti a reperire un fondo che per tre anni ci garantisce la presenza al nostro Comune di due tecnici specializzati che hanno vinto un bando di concorso quindi un ingegnere e un architetto che quindi supporteranno tutta quella che è la nostra attività per reperire e per progettare i fondi e per mettere in atto le opere che sono già state oggetto di finanziamento. Noi abbiamo davvero tanti fondi PNR a disposizione poi se ho tempo, se mi date la possibilità possiamo anche illustrare... No, proprio su questo possiamo dire, visto che i fondi per i benefici dei spettatori e delle spettatrici sono per tutti i comuni non è soltanto per i comuni di Sant'Antimo ovviamente in proporzione al numero di abitanti è chiaro che Capri ha un fondo Sant'Antimo, alcuni di Sant'Antimo ne ha un altro fondo che è un grande comune dell'Interland napoletano e ovviamente le cittadine diciamo così, intorno dagli 8 ai 12 mila abitanti hanno un altro budget ecco, il vostro a quanto ammonda e quali sono i progetti che poi avete messo in caniera già chiusi con le tempistiche che in post ricordiamo ai telespettatori che questi fondi vanno spesi necessariamente nel 2026 sul piano complessivo ma molti erano da progettare e presentare entro il turno 12 2022 quindi sotto questo aspetto il comune di Sant'Antimo come è messo e come si è mosso e quali sono le prospettive di concreto di partenza dei lavori e le tempistiche il comune di Sant'Antimo che come dicevamo ha 33 mila abitanti quindi è un comune medio-grande per quanto ci riguarda ha già recepito fondi PNRR per la rigenerazione per circa 10 milioni di euro e al di là di altri fondi che abbiamo recepito che riguardano però la digitalizzazione dell'ente che è un altro elemento molto importante perché diciamo ci evita tutte quelle file quelle lungaggini burocratiche che i nostri cittadini sono tenuti a fare per avere un certificato ormai siamo nell'era digitale dovrebbero essere cose per lo più superate però tornando a quella che è la domanda di prima noi abbiamo in cantiere quindi abbiamo delle tempistiche ben precise come diceva l'avvocato Cutolo alcuni li dobbiamo progettare e aprire le gare entro marzo di quest'anno altri entro giugno mi riferisco ad esempio abbiamo avuto 5 milioni di euro per una rigenerazione urbana di un'area molto importante e mi riferisco ai cittadini che non conoscono il nostro territorio Sant'Antimo si affaccia sull'Appia e abbiamo una strada di accesso l'Appia che da poco praticamente si è insediato all'interno del nostro comune anche grazie alla collaborazione con la mia amministrazione una multinazionale il Kentucky Fried Chicken allora proprio a partire da lì e ad entrare verso Sant'Antimo c'è una via ad accesso che si chiama via Dante Alighieri e tutto l'asse che arriva al centro fino a superare addirittura via Roma abbiamo avuto un finanziamento di 5 milioni di euro per il rifacimento totale di queste strade con un parco pubblico nuovo su via Dante Alighieri di 15 mila metri quadri quindi anche un parco verde che possiamo dare alla cittadinanza ma poi abbiamo 2 milioni di euro per quello che era un fiore all'occhiello di Sant'Antimo ma che purtroppo adesso non è più usufruibile dei nostri cittadini e che era il centro sportivo il centro sportivo di Sant'Antimo è sempre stato un fiore all'occhiello poi voi per l'interdittiva antimafia che ha colpito la società che precedentemente lo gestiva voi poi per la gestione commissariale che ci ha preceduto che non ha inteso lasciando spazio quindi poi alla politica di dare un impulso sul centro sportivo noi come amministrazione lo riteniamo come priorità dobbiamo ridare il centro sportivo con tutti i campi di calcio con tutta la palestra con la piscina ai cittadini stessi ma poi abbiamo anche fondi che abbiamo reperito 800 mila euro per il quartiere diciamo San Vincenzo la zona più periferica di Sant'Antimo un'area pru anche qui 800 mila euro per la rigenerazione urbana un altro milione di euro che riguarda invece l'ammodernamento della rigenerazione urbana l'efficientamento energetico della casa comunale diciamo che sono sono tanti quelli che sono i progetti diciamo che sostanzialmente cioè raccontiamo che naturalmente questi fondi non sono chiacchiari ma sono fatti con perché sono ampiamente disponibili direttamente nella cassa del comune non passano attraverso chi sa quale idea burocratica ma sono fondi che direttamente poi l'Europa dà all'Italia e il governo poi assegna ovviamente ai ministri degli interni o delle economie e finanze agli comuni ecco ma in tutto questo lei giustamente ha fatto riferimento a due tecnici dell'agenzia della coesione sociale che come dire sono una struttura del ministero per il mezzogiorno fondamentale e che ha dato un grande impulso soprattutto per il mezzogiorno ecco per chi avete dovuto far ricorso a queste figure professionali la macchina vostra comunale non ha le esperienze le capacità o rispetto a quello che lei ha trovato della panoramica dei dirigenti funzionari o dipendenti non era in grado di gestire questo tipo di percorso allora io prima ho parlato ovviamente innovativo perché parliamo di fondi che non erano sono straordinari e che non è che voglio dire nel 2030 ci saranno altre occasioni del genere ecco io prima ho parlato in maniera generale e ho detto confrontandomi quotidianamente con tutti i sindaci del territorio che tutti i comuni vivono uno stato diciamo di sottodimensionamento dell'organico il mio comune lo vive in maniera particolare perché uno degli effetti del dissesto finanziario è la riduzione di quello che fa bisogno del personale noi siamo passati in circa 10 anni da 215 dipendenti a 77 dipendenti quindi i cittadini che ci ascoltano i telespettatori potranno capire quelle che sono le difficoltà al momento noi abbiamo un unico responsabile che si occupa un unico funzionario che si occupa sia dei lavori pubblici sia dell'urbanistica ribadisco un comune di 33 mila abitanti a un unico funzionario a due addetti all'urbanistica e due addetti ai lavori pubblici è chiaro che a stento e a malapena riusciamo a sopperire a quelle che sono le esigenze dell'ordinario certamente queste persone non possono sdoppiarsi e fare questo tipo di lavoro quindi proprio grazie al fondo dell'agenzia per la coesione territoriale al quale abbiamo aderito per tre anni avremo due persone che sono all'uopo destinate faranno solo questo si dedicheranno ai fondi PNR ecco sindaco sotto questo aspetto visto che lei ha menzionato più volte il il dissesto finanziario del suo comune ma come il suo comune purtroppo ai me ne sono altri nella provincia di Napoli e in passato ce ne sono stati diversi anche comuni importanti eccetera ma perché si arriva a questa fase diciamo si di prognosi riservata del comune perché così la possiamo definire perché purtroppo comporta non assunzione aumento al massimo delle imposte sia della Tari sia per quando riguarda il parcheggio per quando riguarda ogni tipo di imposta comunale eccetera compresa l'aliquota IRPEF che viene fatta sul lavoratore dipendente o autonomo perché si arriva visto che è neofita come nell'esperienza di sindaco naturalmente che idea si è fatta e perché si arriva poi a questa prognosi riservata dagli enti locali in generale che soffrono in tutta la campagna questo problema molti allora prima di rispondere per poco non si è arrivato anche al dissesto il comune di Napoli come dire perché il governo Draghi è arrivato un intervento come ne dico forte sia straordinario sia per Palermo Napoli e Milano ricordiamolo ai telespettatori allora si arriva al dissesto che è bene chiarirlo a tutti i telespettatori e io lo dico tutti i giorni ai miei concittadini io sto evitando di definirlo dissesto perché i cittadini non comprendono io dico il fallimento il comune è fallito le do un esempio specifico sette giorni fa dieci giorni fa di preciso non ricordo in consiglio comunale alla luce delle prescrizioni che ci ha dato il ministero quando abbiamo approvato il bilancio stabilmente riequilibrato abbiamo approvato l'esternalizzazione dei servizi di riscossione dei tributi il dato è eclatante il nostro responsabile del settore finanziario che apro una parentesi che non abbiamo ma che abbiamo preso a scavalco ovvero a metà del tempo da un altro comune non possiamo assumerlo per ora nella sua relazione ci ha evidenziato che il 31% dei santanti mesi paga le tasse paga la Tari quindi se meno di un cittadino su tre ci paga le tasse mentre tre cittadini su tre ci chiedono i diritti è chiaro che c'è una spereguazione noi non possiamo mai sopperire a tutte le domande dei nostri cittadini e allora si arriva poi a dover compiere delle azioni forti come quella dell'esternalizzazione altre azioni che metteremo in campo perché dobbiamo fare in modo di reperire i fondi per garantire i servizi minimi servizi essenziali a tutti i nostri cittadini io ho in campo la possibilità anzi mi sento in dovere di dover realizzare quelle che sono anche le strisce blu per far cassa all'interno dei nostri comuni però ripeto noi avremmo bisogno di risorse un po' da tutti i punti di vista per questo io prima criticavo il sistema PNRR nel senso che dovremmo scegliere noi per esempio noi avremmo come comuni mi dispiace che gli altri sindaci oggi non siano qui presenti con me ma noi avremmo bisogno di tanti fondi per la sicurezza avremmo bisogno degli impianti di videosorveglianza che ci fossero finanziati avremmo bisogno di tante cose avremmo bisogno soprattutto di mettere a posto quella che è l'edilizia scolastica quindi potremmo andare avanti per ore però il discorso è chiaro si arriva in dissesto perché meno di un cittadino su tre paga le tasse e allora se è così è chiaro che si va verso il fallimento ecco come diceva anche lei il suo mandato è recente l'è stato eletto quest'estate a giugno come sono stati questi suoi primi sette mesi cosa si può fare per il comune di Sant'Antimo e quali sono i suoi progetti futuri ma si deve fare ancora tanto i primi sette mesi sono stati sette mesi entusiasmanti da un lato perché con una maggioranza compatta e coesa stiamo già mettendo mano i primi segni sono tangibili sulla città abbiamo riaperto dei parchi pubblici abbiamo rifatto delle strade il servizio mensa che è partito il 3 ottobre siamo state tra le prime cittadine in Campania se non in Italia a partire con il servizio mensa proprio per un'attenzione particolare anche che io ho personalmente nei confronti del mondo della scuola perché tra la mia precedente esperienza di consigliere comunale per due anni dal 2017 al 2019 alla mia carica di sindaco ho ricoperto il ruolo di presidente di un consiglio di istituto quindi che è l'istituto Leopardi a Sant'Antimo e che quindi conosco benissimo quelle che sono le esigenze delle scuole degli insegnanti dei presidi e anche dei genitori quindi diciamo che questi sono stati i miei primi impegni dopodiché c'è tantissimo da fare dopo sette mesi non si può certamente fare un bilancio perché la legislatura dura cinque anni io prima ho anticipato dei temi dobbiamo fare un piano urbano del traffico ci stiamo lavorando nuovo adesso per dare una viabilità ordinaria dignitosa le strisce blu dobbiamo ridare il palazzetto ai cittadini abbiamo un progetto anche molto ambizioso su un'area boschiva che ricade nel territorio di Sant'Antimo che è di oltre 60.000 metri quadri denominato Bosco di Capezza con questo stiamo stiamo lavorando con città metropolitana perché ecco anche un altro ente molto importante per noi comuni è città metropolitana altri progetti che sto portando avanti con città metropolitana sono quelli di Via Giannangeli noi tanti anni fa cinque anni fa sei anni fa cinque anni e mezzo fa abbiamo avuto un grave collasso di una cava all'interno del nostro territorio e quindi stiamo portando un progetto avanti città metropolitana per un finanziamento per far sì che anche quest'area possa risollevarsi abbiamo una strada periferica ma molto grande all'interno del nostro territorio che si chiama Via Vergara che è totalmente priva di sottoservizi e di asfalto anche qua sto interloquendo con la regione per portare un progetto esecutivo e per realizzare anche quest'opera se riuscissimo a fare tutte queste opere in questi primi cinque anni io penso che davvero daremo una svolta a quello che è il nostro paese tra l'altro il Comune di Sant'Anna mi pare che sia uno dei comuni che sia stato uno dei primi comuni che abbia avuto la metanizzazione se ricordo bene e che ha contribuito molto come dire anche all'efficientamento energetico e anche alle strutture in quell'occasione furono rifatte diverse strade il problema delle strade in quasi tutti i comuni è che non ci sono fondi per rifarle spesso sono prive di fognature quindi a maggior ragione si deteriorano prima eccetera una delle problematiche che ci viene segnalato sui social per quanto riguarda Sant'Anno ma anche i comuni limitrofi è quello della zona stazione ferroviaria che non dipende solo da voi ma dipende ovviamente da rete RT Italia e dalle infrastrutture delle ferrovie dello Stato che hanno efficientato molto bene i locomotori eccetera eccetera forse meno le stazioni su quell'area lei intende metterci mano progetti o invece lasciarla così un po' in uno stato semi abbandonato se mi consente ma ci viene segnalato dai nostri telespectatori social non siamo stati noi sul posto probabilmente io non trovo che la diciamo la zona che riguarda la stazione ferroviaria di Sant'Antimo sia abbandonata anzi è stato oggetto di una riqualificazione di recente probabilmente sentendo parlare di RT penso che si riferisca alla strada che collega Sant'Antimo a Cesa c'è un ponte che è bombardato sembra veramente che sia stato bombardato non perché voglia esimermi dalle mie responsabilità ma il ponte è totalmente di proprietà del comune di Cesa quindi ricade all'interno però il problema delle strade parliamo non è un problema che è suo ma anche sono 93 comuni della provincia di Napoli probabilmente 91 hanno questo problema forse l'effacentamento più chiaro a comuni di Sant'Anastasia che dobbiamo fare un bravo al sindaco è che riesce a tenere le strade in maniera e facciamo un grande applauso al sindaco perché devo dire che Sant'Anastasia è un comune che difficilmente trova una strada un po' leggermente dissestata non so dove trova i fondi non so come faccio però bisogna fargli complimenti e faremo sicuramente i complimenti al sindaco al collega sì il problema delle strade è un problema ovviamente come dicevamo io sono da sette mesi abbiamo ereditato delle strade che sono quelle che sono è chiaro che c'è stato un periodo a pochi giorni fa dove ci sono stati dieci giorni continui di pioggia questo ha acuito tutte quelle che sono le problematiche delle nostre strade ci sono state tantissime segnalazioni da parte dei cittadini che io ricevo anche sulla mia pagina facebook che è molto seguita ho cercato di spiegare loro e approfitto anche del mezzo televisivo per ribadirlo che mentre piove se continua a piovere purtroppo noi non possiamo intervenire dobbiamo attendere che quindi venga il bel tempo per poter intervenire come interveniamo torniamo sempre allo stesso discorso alla luce dell'eseguità dei fondi noi riusciamo a tappare i buchi questo riusciamo a fare a rappezzare tanti cittadini mi scrivono sindaco ma piuttosto che mettere l'asfalto perché non rifacciamo le strade da capo io dico magari riuscissimo a fare tutte le strade da capo quindi anche su questo solo tramite fondi PNRR fondi di città metropolitana fondi della regione al momento possiamo fare questo perché il distesso finanziario prima ne parlavamo a telecamere spente dura per altri 4 anni quindi noi abbiamo questa condizione di avere fondamentalmente le mani legate per i prossimi 4 anni anche perché poi tra l'altro ricordiamo che il sindaco oggi ha dei poteri ampi non solo di amministrazione ma anche della salute pubblica della protezione civile eccetera e quindi vuol dire veramente operatissimo e anche pieni di responsabilità in un comune medio-grande di 33.000 abitanti è dura sicuramente eccetera noi le facciamo l'inbucca al lupo ovviamente e ovviamente l'ultimissima domanda che le faccio è quella riferita invece alle prospettive della comunità di Sant'Antimo in vista diciamo così di quello che sono i prossimi 4 anni e mezzo circa di suo mandato ecco lei lo suo sogno quale nel cassetto qual è se lo possiamo svelare di dire ai cittadini di Sant'Antimo fra 4 anni e mezzo io mi ricando non mi ricando però sappiate che sono riuscito a raggiungere questo obiettivo diciamo che in parte ho già risposto precedentemente a questa domanda vabbè ma adesso chiedete il sogno sì il sogno è questo in campagna elettorale ho parlato di ritrovare un orgoglio di essere Sant'Antimese una voglia un senso di appartenenza un senso di comunità che fondamentalmente è mancato negli ultimi anni abbiamo iniziato con dei piccoli interventi abbiamo ridato a Sant'Antimo delle ville comunali che erano chiuse quindi dei centri di aggregazione a breve ne daremo un'altra che è allocata in via Crucis il sogno nel cassetto è quello che ho detto prima è quello di fare in modo che questa area boschiva che riguarda veramente 40-50 mila metri quadri possa col sostegno di città metropolitana con la quale abbiamo già interloquito realizzare un parco urbano forestale quindi un parco urbano da ridare metropolitano da dare sia alla città di Sant'Antimo ma siccome si trova in una posizione strategica che è al centro di un quadrivio con Melito Giuliano e D'Aversa all'uscita dell'asse mediano riuscire a dare questo polmone verde sia ai cittadini di Sant'Antimo ma a tutta l'area che ho appena citato farebbe in modo che il paese svoltasse ecco noi ce lo auguriamo per lei la ringraziamo per essere stato nostro ospite la nostra intervista finisce qua quindi noi ringraziamo il sindaco Buonanno per essere stato con noi grazie a voi per l'invito e buonasera a tutti i telespettatori ovviamente ringrazio l'idiatore del programma di esperto della società civile l'avvocato Michele Cutolo buonasera a tutti e alla prossima ringrazio il nostro sponsor Carpise Italia e vi ricordo che noi ci vediamo sempre qui martedì prossimo arrivederci e buona serata grazie a tutti in collaborazione con a presto a presto a presto a presto Grazie a tutti.